Turismo sociale ed inclusivo, un progetto regionale, Veneto, preso ad esempio a livello nazionale, partito dal litorale Veneto e che allarga l'orizzonte al territorio veronese e al suo grande bacino turistico. E a Malcesine, Palazzo dei Capitani, il progetto è stato presentato con l'assessore alla sanità Lanzarini, il direttore generale dell'Ulse 9 Girardi, sindaci del territorio, provincia, aeroporto, camera di commercio, Funivia, Malcesine e Montebaldo, rappresentanti delle associazioni di categoria, quindi albergatori e operatori turistici, terzo settore, associazioni. Un coinvolgimento, come si vede, complessivo nel turismo inclusivo, che prevede concretamente, per chi ha diverse disabilità, non solo una vacanza da vivere in assoluto agio e sicurezza, totale accoglienza ed eventuale autonomia abitativa, ma anche, come sottolineato nell'incontro di Malcesine, turismo sociale ed inclusivo significa inserimento possibile di persone disabili nel mondo del lavoro, settore turismo appunto, a prendere una professione, avere opportunità. Un progetto che dicevamo dal Veneto sta facendo scuola in Italia e che coinvolge anche nel Veronese una rete di enti ed associazioni.